Risotto e carciofi freschi e zafferano Pulite i carciofi eliminando le foglie esterne e il gambo, arrivate fino al cuore, poi tagliateli a metà e togliete la barbetta interna, affettateli sottilmente e metteteli in acqua e limone. Tritate la cipolla finemente e rosolatele in una padella con olio. Fate quindi insaporire i carciofi e poi sfumateli con del vino bianco. Sciogliete lo zafferano nel brodo, poi fate tostare il riso in una padella a secco senza alcun condimento. Sfumate quindi col brodo con lo zafferano, aggiungete i carciofi e iniziate la cottura tradizionale del risotto, ovvero aggiungendo brodo quando è necessario. Mantecate con una noce di burro e del parmigiano, mescolate bene e servite il vostro risotto cremoso, magari aggiungendo una spolverata di pepe nero macinato fresco. Mantecate con una noce di burro e del vino bianco.